Sta riscuotendo molto successo anche fuori dei confini provinciali la mostra organizzata da Startè su Caselli. Qual è il titolo che è abbastanza cattivante? Il titolo è 22 più 22 quadri di Giuseppe Caselli. Si rifà, è una sorta di citazione, la mostra che venne fatta nel 1930, 30 quadri di Giuseppe Caselli. Quindi sono 22 più 22 perché avremo modo di fare due sessioni, questa che abbiamo inaugurato il 15 ottobre e che andrà avanti fino a dicembre ma appunto a metà novembre saranno altri 22 quadri. Già in questa mostra si può notare la storia di Caselli, nel senso che diverse sono le tecniche ma tutte davvero di pregio e che colpiscono. Sì, abbiamo cercato di esporre delle opere che raccontassero il percorso pittorico di questo grande maestro ahimè dimenticato ed è un percorso narrativo diciamo della sua pittura, del suo linguaggio che parte dal 1910 circa e arriva agli anni 50. C'è una citazione naturalmente di Mauthausen non solo con le opere realizzate dall'artista negli anni 50 ma un'opera del 1915 che lui portò naturalmente da quel campo che non era un campo di sterminio durante la prima guerra mondiale ma diciamo un campo in cui era possibile dipingere, quindi era un campo di prigionia molto civile. Domenica pomeriggio un bel evento e sarà un suo allievo a raccontare un po' Caselli. Saranno due i protagonisti ovvero Francesco Vaccarone che è in questo evento che dal titolo Francesco Vaccarone racconta Caselli un Francesco Vaccarone sedicenne che dal padre viene portato nello studio di Caselli in via Prione all'altezza di Biso quello che una volta chiamavano Shanghai e che appunto per vent'anni sarà suo amico oltre che allievo e che gli organizzerà appunto nel 71 una mostra alla Spezia con un grandissimo successo. A che ora questo evento? Alle 17.30 domenica qui in piazza Europa 16 al piano rialzato così le persone non sbagliano dove ha sede anche la camera di commercio però tanto per far capire alle persone meglio prenotare con una mail info chiocciolastarteitalia.it devo dire che ogni giorno arrivano almeno 30 persone a vedere la mostra abbiamo avuto il piacere di ospitare sabato notte Vittorio Sgarbi che ha definito la mostra una mostra rivelatrice di un artista che non conosceva.